Siamo con Thomas Kosicki, il prossimo avversario è il Cesena, si giocherà domenica al Dino Manuzzi e dovrebbe essere la tua occasione, la tua primissima partita ufficiale con la maglia del Novara e l'esordio anche in Serie B. Sì, sto aspettando molto questa partita, quindi spero che andrà bene, però stiamo preparando bene la partita, l'avversario è forte, l'anno scorso ho giocato in A, però speriamo di far punti. Nella tua esperienza passata hai giocato già in Serie A con la maglia del Catania, nella Corgon Liga con l'Inter Bratislava, il campionato di Serie B come ti sembra e come vuoi affrontare con che spirito questa competizione e questa gara? Sicuramente mi ho affrontato con spirito giusto perché non è che si può sottovalutare niente, gli avversari sono forti, quindi sicuramente c'è differenza tra A e B, quello è normale, però se ti affronti le partite con il giusto spirito puoi fare tanti tanti punti. Dai bianconeri ai bianconeri perché l'ultima partita che hai giocato era contro la Juventus in Serie A, adesso siamo a Cesena, cambia l'avversario ma l'importanza della gara è tanta perché il Cesena arriva anche da due sconfitte, il Novara due belle prove, forse avrebbe meritato anche due vittorie, sono arrivati due pareggi, adesso bisogna fare i tre punti e togliere il meno. Infatti noi siamo ancora a meno due, abbiamo fatto due punti fino adesso, magari potremmo fare qualcosina in più, però va bene così, fino adesso non abbiamo perso, a domenica cercheremo di vincere la partita, infatti come l'ho detto dobbiamo preparare bene, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo scendere in campo con spirito giusto e cercare di vincere la partita. Ti sei sempre allenato con impegno e costanza, a parte un piccolo problemino alla mano ma anche con la mano un po' infortunata hai sempre giocato, adesso stai bene e con i compagni, anche il reparto offensivo hai già instaurato un buon rapporto, i meccanismi sono già oliati anche se è la tua prima partita. Sì, infatti, sono quasi due mesi che sto qua, quindi praticamente in ritiro ci siamo allenati due volte al giorno, quindi ormai ci conosciamo. Poi è vero, c'è avuto un piccolo infortuno con il Mignolo, però adesso è passato, penso, ho cercato di allenarmi bene e spero di essere pronto. Ecco, col Cesena secondo te che partita sarà? Non lo so, spero, infatti, come ho detto, dobbiamo affrontare con giusta cattiveria, non dobbiamo sottovalutare niente e cercare di giocare.